Questo video è dedicato agli ultimi quattro quesiti dell'esame di stato del 20 giugno 2019. Quindi affronteremo il problema di probabilità e i tre problemi di fisica. Quesito 5. Si lanciano quattro dadi con facce numerate da 1 a 6. Qual è la probabilità che la somma dei quattro numeri usciti non superi 5? Qual è la probabilità che il prodotto dei quattro numeri usciti sia multiplo di 3? Qual è la probabilità che il massimo numero uscito sia 4? Indico con A, B e C questi tre eventi. La probabilità del primo evento si trova facilmente. Non occorrono calcoli complicati. Basta semplicemente riconoscere che il numero 5 si può ottenere soltanto in 5 modi diversi. In un modo ogni dado mostra il numero 1 e negli altri 4 a turno uno dei dadi mostra il numero 2 e gli altri 3 mostra il numero 1. Solo in questo modo è possibile ottenere 5. Le uscite possibili sono 6 alla quarta, quelle favorevoli 5. Quindi in questo caso la probabilità dell'evento A è 5 su 6 alla quarta. Nei video che riguardavano le simulazioni dell'esame di Stato ho mostrato anche il cosiddetto metodo dell'ignorante, cioè un metodo che consiste nell'eseguire praticamente l'esperimento e contare i casi favorevoli. Il tutto è demandato a un computer che simula appunto l'esperimento in esame. Continuerò anche adesso a mostrare questa simulazione numerica. Il codice a sinistra mostra uno script in Python che realizza appunto l'evento A. Abbiamo un milione di lanci. Successo è una variabile che mi conta quante volte si verifica l'evento favorevole. E poi per ciascuno di questi lanci getto i 4 dadi. Alle variabili dado 1, dado 2, dado 3, dado 4 vengono assegnati dei numeri a caso tra 1 e 6. Quindi sommo questi numeri. Se la somma è minore di 5 ho avuto successo e quindi conto il caso favorevole. La probabilità è il numero dei successi diviso il numero totale dei lanci. Eseguo la simulazione e trovo che l'accordo è abbastanza buono. Riesco a riprodurre praticamente le prime due cifre significative. L'evento B riguarda la probabilità che il prodotto dei 4 numeri usciti sia multiplo di 3. Una volta usciti i dadi devo moltiplicare le loro facce. E se il prodotto P è multiplo di 3 allora ho ottenuto un caso favorevole. Quando è che il numero P risulta essere multiplo di 3? Questo accade se almeno uno dei numeri estratti assorte è 3 oppure 6. Se appare un 3 o un 6 almeno su uno di questi dadi sono sicuro che P è multiplo di 3. Esiste però un metodo indiretto per arrivare al risultato e che fa uso del cosiddetto evento complementare. Cioè è molto più semplice andare a ricavare la probabilità che il numero P non sia multiplo di 3. È molto più semplice calcolare questa probabilità. Siccome esistono soltanto due possibilità P è multiplo di 3 oppure non lo è e la somma di queste due probabilità fa 1. Ora mostrerò come è molto più semplice trovare questa probabilità, cioè P non è multiplo di 3, per cui la probabilità che P sia multiplo di 3 si trova per differenza. Affinché P non sia multiplo di 3 è necessario che su ciascun dado esca un numero appartenente a questo insieme, cioè su ciascun dado deve apparire un 1, un 2, un 4 e un 5. Questo deve accadere su tutti i dadi. Qual è la probabilità che su un dado appaia uno di questi quattro numeri? È 4 sesti. E qual è la probabilità che tutti e quattro i dadi verificano questa condizione? Beh, è P alla quarta. Per cui la probabilità dell'evento B è 1 meno P alla quarta. Questo è il programma di prima. L'unica cosa che cambia è che invece di una somma ho un prodotto, dado 1 per dado 2 per dado 3 per dado 4, e la verifica che P è un multiplo di 3 viene eseguita con questa istruzione. Questa istruzione trova il resto della divisione tra prodotto e 3. Quando è 0 ho avuto successo. Lancio ancora una volta la simulazione e qui riesco a trovare con un milione di lanci le medesime tre cifre significative del risultato esatto. L'evento C riguarda la probabilità che il massimo numero uscito sia 4. Come al solito, quando si eseguono problemi di calcolo delle probabilità, esistono diversi modi per giungere al risultato. Io qui ne mostro 1, probabilmente non è il più intelligente, ma forse ha il vantaggio di essere facilmente visualizzabile. Dobbiamo trovare la probabilità che il massimo numero che appare su un dado sia 4. E questo si può ottenere in questi modi. Intanto non deve uscire su nessun dado il numero 5 e il numero 6. Inoltre, i casi a noi favorevoli sono qui elencati. Su un dado appare un 4 e sugli altri tre dadi appare un numero compresso tra 1 e 3. Questa configurazione, a noi favorevole, in realtà pesa 4 volte, perché posso immaginare che sia il secondo dado a mostrare la faccia con il numero 4, oppure il terzo dado e il quarto dado, mentre gli altri mostrano dei numeri inferiori a 4. La seconda possibilità a noi favorevole è che due dadi mostrano il numero 4 e gli altri due mostrano dei numeri inferiori a 4, tipo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Questa situazione pesa 6 volte, quindi possiamo ottenerla 6 volte cambiando di posto questi due dadi. L'altra situazione favorevole è quando tre dadi mostrano il numero 4 e l'altro invece mostra un numero compresso tra 1 e 3. E questa qui si può ottenere ancora in quattro modi diversi. Infine, l'altro caso favorevole è quando tutte e quattro mostrano la faccia con il numero 4. Allora, qual è la probabilità che esce un 4 su un dado? È un sesto. Qual è la probabilità Q che sugli altri dadi non esca né 5 né 6 ed esca soltanto un numero compresso tra 1 e 3? Questa probabilità è 3 sesto. Allora, la probabilità di questo evento è P, un sesto per Q alla terza. Il tutto va moltiplicato per 4 perché ho 4 possibilità. Per quanto riguarda quest'altro evento, la sua probabilità, l'ho chiamata C2, quella di prima era C1, questa è C2, questa nuova probabilità è P al quadrato per Q al quadrato per 6. Quest'altra probabilità, C3, è P al cubo per Q per 4, anche qui ho 4 possibilità, e l'altra è P alla quarta per Q alla 0, quindi semplicemente P alla quarta. Se faccio la somma di queste probabilità, ho trovato la probabilità dell'evento C ed è 0,135. Anche qui il codice è fondamentalmente lo stesso, cambia la condizione. Qui mi assicuro che almeno uno dei quattro dadi mostra il numero 4 e gli altri abbiano un numero inferiore a 4. E anche in questo caso il metodo dell'ignorante funziona e mi dà una stima molto buona del risultato esatto. Ed ora iniziano i quesiti di fisica. Un'aspira di rame di resistenza R richiude un'area di 30 cm2 ed è immersa in un campo magnetico uniforme le cui linee di forza sono perpendicolari alla superficie dell'aspira. La componente del campo magnetico perpendicolare alla superficie varia nel tempo come indicato in figura. Spiegare la relazione esistente tra la variazione del campo che induce la corrente e il verso della corrente indotta. Calcolare la corrente media che passa nella spira durante i seguenti intervalli di tempo. A destra ci viene mostrato un grafico in cui sull'asse verticale abbiamo il campo magnetico e sulle ascisse il tempo. Ai fini della risposta in questo grafico occorre tener conto e rilevare le coordinate dei punti che ho evidenziato in rosso cioè l'origine quest'altro picco quest'altro qui sopra e poi di nuovo quest'altro. Si tratta dei punti estremi alle regioni A, B e C che cita il testo. La spira ci viene detto è ferma nel campo magnetico ed è perpendicolare al campo magnetico stesso quindi la spira non si sposta non ruota è immobile ciò che cambia è esclusivamente il campo magnetico qui sono mostrate le linee del campo magnetico. La corrente indotta ci è data da questa relazione in cui la forza elettromotrice indotta ci è data dalla legge di Faraday Neumann delta phi diviso delta t in cui phi è B per S S è una costante B invece varia nel tempo il segno meno rappresenta la legge di Lenz e ha a che vedere con il verso della corrente come vedremo tra breve. Essendo S una costante la metto in evidenza e trovo questa espressione per trovare la I indotta media in ciascuna regione devo trovare semplicemente la differenza del campo magnetico agli estremi di ciascuna regione e dividere per delta t per esempio in questa prima regione devo eseguire la differenza tra meno 0,20 e 0 e questa rappresenta la variazione del campo magnetico è dividere per 3 millisecondi nella regione B devo prima trovare la variazione del campo magnetico 0,20 meno 0,20 diviso 2 millisecondi per l'altro in maniera analoga dovrò fare 0 meno 0,20 le misure del campo magnetico sono in millitesla ovviamente diviso questo intervallo temporale che è di 5 millisecondi questo verrà fatto più avanti per quanto riguarda il verso della corrente indotta è collegato a questo segno negativo la corrente indotta circola in un verso tale da opporsi alle variazioni del flusso del campo magnetico ma procediamo con ordine nella prima regione cioè in questo tratto il campo magnetico sta diminuendo quindi db su dt è negativo allora la corrente indotta circola in questa direzione nel senso di questa freccia curva in maniera tale da dare vita a un campo magnetico indotto diretto in direzione opposta il verso della corrente e quello del campo magnetico indotto segue la regola della mano destra cioè le dita della mano chiudendosi riproducono il verso della corrente indotta e invece il pollice individua il campo magnetico indotto la corrente indotta è calcolata qui secondo la procedura che ho già ricordato prima nella seconda regione invece il flusso del campo magnetico sta aumentando e allora la corrente indotta circola in direzione opposta per produrre un campo magnetico indotto diretto in una direzione tale da opporsi a quella variazione di flusso la corrente indotta in questo caso è data da questo valore infine nella terza ragione si ha un caso simile a quello che ho descritto poco fa la corrente indotta circola in senso anti-orario e la corrente indotta è invece data da quest'altro valore questo quesito di fisica mi sembra abbastanza semplice passiamo al quesito numero 7 in laboratorio si sta osservando il moto di una particella che si muove nel verso positivo dell'asse X di un sistema di riferimento ad esso solidale all'istante iniziale la particella si trova nell'origine e in un intervallo di tempo di 2 nanosecondi percorre una distanza di 25 centimetri una navicella passa con velocità V080C lungo la direzione X del laboratorio nel verso positivo e da essa si osserva il moto della stessa particella determinare le velocità medie della particella nei due sistemi di riferimento qual intervallo di tempo e quale distanza misurerebbe un osservatore posto sulla navicella? questo è un problema di relatività speciale ma non si discosta da quelli standard che si risolvono durante l'anno scolastico quando si studia appunto quest'argomento allora qui abbiamo tre oggetti una particella che si muove un laboratorio e una navicella ci dà le coordinate spazio-temporali della particella nel riferimento del laboratorio a t uguale 0 si trova nell'origine a t uguale 2 nanosecondi si trova in x 0,25 0,25 metri naturalmente e qui vedete la lettera v e poi pl come ci sono diversi punti di vista userò questa notazione la v denota sempre la velocità la prima lettera mi dice qual è l'oggetto a cui la v si riferisce p sta per particella e poi la seconda lettera mi dice in quale riferimento questa velocità è stata determinata qui possiamo avere l nel caso del laboratorio ma più avanti ci potrà capitare di avere anche n n si riferisce alla navicella quindi v pl significa è la velocità della particella nel riferimento del laboratorio v p n significa velocità della particella nel riferimento della navicella v n l significa velocità della navicella nel laboratorio quindi è importante avere chiaro qual è la velocità di un oggetto e soprattutto rispetto a chi altrimenti non se ne esce più possiamo già subito rispondere alla prima domanda e cioè determinare le velocità medie della particella nei due sistemi di riferimento questi due sistemi di riferimento sono uno il laboratorio e l'altro è quello della navicella nel sistema del laboratorio la velocità della particella si determina come delta x diviso delta t dove delta x è la distanza percorsa nel laboratorio e delta t è il tempo misurato nel laboratorio quest'ulteriore pedice mi dice in quale riferimento sto misurando una data grandezza fisica tutte queste chiacchiere per dire che in questo caso vpl è la semplice spazio fratto tempo quindi non c'è niente di misterioso in questo calcolo vuole anche sapere la velocità media della particella nel riferimento della navicella quindi chiede vpn se facessimo meccanica classica io dovrei calcolare vpl meno vnl cioè la velocità della particella nel laboratorio meno la velocità della navicella nel laboratorio ma siccome queste sono velocità elevate allora devo usare questa relazione il risultato è questo qui che significa velocità negativa significa che la navicella si vede ferma e vede la particella arretrare lungo l'asse x quindi niente di eccezionale ci chiede qual è l'intervallo di tempo e la distanza che misurerebbe dal riferimento della navicella bisogna mettere in relazione le coordinate spazio temporali di a e b nel riferimento del laboratorio con quelle analoghe nel riferimento della navicella le trasformazioni di lorenz ci permettono di fare proprio questo queste sono le espressioni per ottenere questi numeri devo prima determinare il fattore gamma questo fattore gamma è quello della navicella nel sistema del laboratorio e quindi questa è la velocità della navicella nel laboratorio quindi ho collegato due punti del riferimento del laboratorio con due punti nel riferimento della navicella questi sono i risultati ma voglio mostrare anche un altro modo di procedere esistono tre riferimenti quello del laboratorio quello della navicella e quello della particella nell'ultima domanda io ho collegato due eventi che stavano nel laboratorio con altri due che stavano nel riferimento della navicella quindi ho messo in relazione questi due riferimenti questo è stato fatto appunto con le trasformazioni di Lorenz ma il problema si può risolvere anche mettendo in relazione il riferimento della particella con quello del laboratorio ed è quello che proveremo a fare adesso con delta t qui indico la durata del percorso eseguito dalla particella visto nel riferimento della navicella e questo è collegato al medesimo intervallo di tempo ma misurato dalla particella cioè nel riferimento della particella questo qui è il cosiddetto tempo proprio questi due tempi sono collegati da questo fattore di Lorenz ti ricordo che il tempo proprio è quello misurato da un osservatore solidale con la particella e che per misurarlo usa un orologio perché nel riferimento della particella la particella è ferma quindi ha bisogno per misurare la durata di quell'evento di un solo orologio invece l'osservatore posto sulla navicella ha bisogno di due orologi uno all'inizio e uno alla fine del percorso il problema è che conosco questo fattore ma non conosco il tempo proprio della particella però posso ricavarlo infatti conosco la relazione che esiste tra il tempo proprio e la durata del medesimo intervallo visto dal laboratorio vado a recuperare le misure effettuate nel laboratorio questo delta TL che è la durata dell'evento nel laboratorio è collegato al medesimo tempo proprio della particella da un altro fattore di Lorentz gamma PL per trovare questo nuovo fattore devo inserire la velocità della particella nel riferimento del laboratorio che conosco e che ho già determinato quindi non mi rimane altro da fare che trovare questo tempo proprio usando i dati del laboratorio e sostituirli qui dentro e questo è stato fatto qui e il risultato è 2,2 nanosecondi che è il risultato che avevo trovato prima con le trasformazioni di Lorentz per quanto riguarda lo spazio percorso sapendo quanto vale la velocità della particella nel riferimento della navicella l'abbiamo trovata la moltiplico per questo intervallo di tempo e trovo la distanza percorsa che è identica a quella di prima qui si toto un protone penetra in una regione di spazio in cui è presente un campo magnetico uniforme di modulo 1 millitesla esso inizia a muoversi descrivendo una traiettoria ad elica cilindrica con passo costante delta x ottenuta dalla composizione di un moto circolare uniforme di raggio r e di un moto rettilineo uniforme determinare il modulo del vettore velocità e l'angolo che esso forma con b questo disegno mostra l'elica disegnata in verde generata dal protone mentre si muove nel campo magnetico l'angolo alfa è quello che forma il vettore velocità con il campo magnetico b ed è incognito ricordiamo che questo moto elicoidale è dovuto al fatto che la velocità si scompone in una componente parallela a b e in una perpendicolare a b quella perpendicolare a b determina un moto circolare uniforme invece la componente parallela al campo magnetico determina un moto rettilineo uniforme tutte e due insieme determinano l'elica più in dettaglio la forza di Lorenz è la seguente qvb questa v è la componente verticale della velocità è la v per il seno dell'angolo che formano b e v ed è anche una forza centripeta da questa relazione posso ricavare la componente perpendicolare della velocità per quanto riguarda il periodo cioè il tempo impiegato dalla particella a compiere una circonferenza questa è l'espressione a questo punto il passo dell'elica è dato dalla v parallela per il periodo quindi prendo la t la inserisco qui dentro e trovo una relazione che mi lega alla v parallela e la v perpendicolare cioè a partire da questa relazione posso scrivere quest'altra e il rapporto v perpendicolare v parallelo è proprio la tangente di alfa r lo conosco delta x mi viene dato e quindi trovo che alfa è circa 60 gradi a questo punto la velocità è la v perpendicolare diviso seno di alfa eseguo questi calcoli e questa è la risposta anche questo quesito mi sembra abbastanza semplice e con questo è tutto è tutto Grazie a tutti.